Mercoledì scorso in casa abbiamo offerto una grande prestazione e abbiamo meritato di vincere. A Dortmund però sarà diverso, il Borussia lotterà con il coltello fra i denti, ma noi proveremo come sempre a vincere e ad andare in semifinale. Lewandowski ha dimostrato negli anni di essere un grande, ma noi dobbiamo fare soltanto il nostro compito, ovvero difendere al meglio, e speriamo di fare tutti bene in questo senso martedì sera. No, non ho mai giocato sul campo del Borussia, so però che ci sarà un'atmosfera calda, noi siamo dei professionisti ed è normale comunque per noi gestire la pressione.